ciao cinefusi.it oggi vi parlo di not it's not over il primo lungometraggio del regista alessandro riccardi e per essere al suo primo lungometraggio il regista si è già guadagnato diversi premi in festival internazionali come ad esempio un festival di new york dove il film ha vinto il premio come miglior thriller si tratta di una produzione italia gran bretagna di vargo stream digital e sound art 23 ed è distribuito da cg entertainment inoltre potete trovarlo già dal potevate trovarlo già dal 10 novembre su appunto on demand su alcune piattaforme come prime video google play tv o anche apple play tv dicevo si tratta di un thriller psicologico i cui protagonisti sono gianni capaldi veronica rosati e christopher lambert che forse molti di voi ricorderanno come uno dei protagonisti del film highlander ma che poi è stato protagonista in molti altri film si tratta appunto di un thriller psicologico e tutta la messa in scena diciamo sottolinea sempre questo aspetto proprio psicologico della vicenda narrata a partire dall'alternanza fra le riprese in esterna viene ripreso molto spesso un paesaggio caratterizzato da un lungo ponte in mattoni e ferro molto probabilmente realizzato nei primi anni del novecento molto suggestivo che lascia spaziare l'occhio e la mente alternato appunto a molte riprese in interni in una casa in un appartamento abbastanza claustrofobico quasi a rappresentare proprio lo stato d'animo della protagonista che come si vedrà durante il corso del film è proprio imprigionata in una rete di di ricordi di memorie e del suo passato che appunto non non la rendono libera di vivere appieno la propria vita oltretutto il questo aspetto è sottolineato anche dall'uso del colore infatti tutte le riprese che sono all'interno della casa la scenografia e gli arredi sono tutti caratterizzati dai toni freddi dai toni cupi proprio per darci questo senso di di claustrofobia di oppressione quasi la storia è la storia di questa ragazza che è sposata con un uomo che la maltratta e lei però ha un amante un altro uomo che cerca di convincerla dopo che il marito l'ha picchiata prima di andare al lavoro per un motivo abbastanza futile l'amante cerca di convincerla a fuggire insieme a lui perché vuole portarla via da quella situazione il giorno dopo fortuitamente a causa di un incidente domestico il marito della ragazza della protagonista muore e quindi i due amanti sono finalmente liberi di vivere la propria storia d'amore cominciando a frequentare più assiduamente questa donna però gianni capaldi che è l'altro protagonista comincia a rendersi conto che questa donna nasconde oltre al suo lato sensuale dolce anche un lato più inquietante è una fotografa che ha molto molto abile molto dotata che però diciamo nasconde sia un segreto nel suo passato e anche nella sua arte quindi questo uomo comincia a diventare sempre più diffidente nei confronti della donna che ama fino a che avverranno una serie di di accadimenti per cui si convincerà sempre di più che questo lato inquietante della donna forse è la sua caratteristica principale quest'uomo ad un certo punto scomparirà ed il padre christopher lambert si metterà sulle sue tracce cercando anche lui di spiegare il mistero di questa donna così inquietante e misteriosa è un è un film abbastanza diciamo imprevedibile e che quindi ha uno svolgimento nella trama non banale e che quindi vi consiglio di vedere perché se volete una passare una serata di suspense vedendo anche delle immagini molto belle delle riprese molto molto ben fatte molto precise allora vi consiglio di vedere questo film se vi è piaciuto questo video mettete mi piace alla pagina facebook al canale youtube la pagina instagram di cinefusi.it vi ringrazio e vi auguro una buona serata